Benvenuto sul canale. Iniziano le riprese di Lemi. Cos'è Lemi? È la nuova serie interpretata da Karen Bursin, ma non solo. Vi raccontiamo tutto su Lemi, il nuovo progetto che Karen Bursin sta già girando in Turchia e che sembra essere una serie d'azione estrema a giudicare dalle prime fotografie che sono state mostrate. Il metico protagonista della serie Love is in the air appena pubblicato una fotografia abbastanza pesante dove si vede il suo volto completamente coperto di sangue. Nell'impressionante immagine che vi mostriamo in questo video possiamo vedere l'attore che sembra avere ricevuto o anche dato un tremendo pestaggio. In esso appare con il sangue sul viso e su tutti i vestiti, il che conferisce a quest'immagine una forza insolita ed anche molto sconcertante. Nel post in cui appare l'immagine Karen dà un indizio. Una storia insolita scrive insieme all'Alt Lemi. Dopo questi sottili indizi che ci ha lasciato l'attore che ha già quasi 11 milioni di follower, siamo subito corsi a vedere di cosa si tratta questo maledetto mistero. Ecco qui c'è stata fortuna. Sotto HT hashtag Lemi siamo riusciti a trovare questa foto di Karen Bursin insieme al team dei truccatori della sua nuova serie Lemi. Presumibilmente si tratta di una nuova serie che dovrebbe essere girata tutta in Turchia e che si intitolerebbe Lemi e che a giudicare dalle immagini che iniziano a girare promette azioni e violenza in abbondanza. Sembra che Karen Bursin sarà pure il regista, sceneggiatore e attore protagonista. La serie si chiamerà Lemi e sarà anche il nome del protagonista che verrà interpretato da Karen Bursin. Il regista del progetto sarà anche Osman Kaya famoso per il film Vlad the Impaler nel 2018. Da qui il sangue legato forse a quell'altro tema. Insieme a Karen Bursin e tra gli altri attori di Lemi troviamo anche Ebrard Demir Bilek famoso per aver recitato in serie come Erkai. Si può dire poco di più visto che le informazioni qui arrivano proprio con il contagocce. Come news siamo pazzi che la star di Loves Inter abbia iniziato a girare un nuovo lavoro in Turchia quindi c'è molta soddisfazione e tanta gioia. E non si sa se per ora tutto si fermerà in Turchia come hanno detto oppure la location potrebbe anche andare in Spagna per girare magari qualche scatto con Antonio Banderas visti i collegamenti ultimi di Karen Bursin con quell'attore. Stiamo a vedere ma per continuare a vedere e scoprire altre news ricordati iscriviti al canale. Al prossimo video